Per il Comune di Ussoi e per tutto il territorio di Altavalle la strada della Setta rappresenta un'infrastruttura di enorme valore sia dal punto di vista storico che paesaggistico ma soprattutto in questi ultimi anni anche per quello che riguarda i flussi turistici. L'infrastruttura con il lavoro fatto in questi anni continua a essere in ottimo stato di conservazione, necessita sicuramente negli anni a venire di ulteriori interventi, le frequentazioni sia motoristiche ma anche escursionistiche di outdoor legate anche alla bicicletta sono in costante aumento negli ultimi anni. Il grande lavoro fatto insieme alla città metropolitana e ai comuni limitrofi in questi anni seppur con risorse limitate permette di mantenere questa infrastruttura in ottimo stato di conservazione e di fruizione sicuramente dovremo andare dal prossimo anno in poi ad attuare un ulteriore progetto di gestione e valorizzazione sulla falsa riga di cosa è stato fatto anche in altre parti del Piemonte, mi viene in mente ad esempio la Via del Sale per accogliere al meglio un flusso turistico sia straniero che italiano che è già molto importante. Ricordiamo due numeri, ad esempio nel 2017-2018 i monitoraggi fatti parlano di circa 35.000 passaggi di mezzi motore nella stagione di apertura, quindi dai primi di luglio fino alla metà di ottobre. Questo flusso è certamente un flusso molto importante su un territorio molto delicato, ma se gestito in modo corretto può essere sicuramente una fonte di sostegno per il territorio, considerando anche l'equilibrio molto delicato dell'ambiente che viene attraversato da questa infrastruttura che in buona parte attraversa il parco naturale del Gran Bosco e in parte quello dell'Orsiera Rocciavrè.